Siamo a Iblancore nei prossimi giorni, ci trovate al Teatro della Fugata, a San Vincenzo e nel cortile del Palazzo Francesco Bruno. Can we have a toast, guys? Ready? Can I have a few people here for a toast? Grazie per essere venuti stasera, ho visto che tanti di voi hanno goduto un bicchiere di vino, di prosecco. Facciamo un toast ideale a tutti quanti e ringraziamo la nostra carissima David Sugano che ci accompagna da tantissimi anni e let's have a toast together. It's going to make a stand up.